Giuseppe Conte, attuale Presidente del Consiglio d'Italia, dopo l'approvazione del DL del Reggio Agosto, ha approvato dunque tale DL. Il Consiglio dei Ministri ha dato in via libera al decreto Agosto, salvo intese tecniche, con 25 miliardi di spesa per far fronte alla crisi da Covid-19 e da coronavirus. Il DL-Agosto abbiamo approvato misure significative, questo è l'approvazione di Conte, ringrazio a tutti i Ministri, i Capi della Regnazione e le Forze maggioranza per il confronto e lavoro svolto in maniera proficua. Conte in apertura di conferenza stampa, dopo il via libera del CDM del DL Agosto, per sottolineare che le misure stanziali del Governo arrivano a 100 miliardi circa, si tratta della terza manovra economica anti-pandemia. Sono tante le misure prese in atto, soprattutto 25 miliardi che vanno a essere di grande aiuto per quanto riguarda la crisi economica derivata, derivabile dal Covid-19 del coronavirus. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi, commentate, ciao da Leonardo, un narratore del mondo.